buongiorno amiche buongiorno amici sono da poco passate le 6 e io cosa faccio mi dispero perché alle 5 e mezza hanno iniziato a smiagolare il pippo con l'oreste davanti alla porta d'ingresso della casa del pippo stiegati veramente e la minussa è messa disperatamente ad urlare perché la difenderebbe l'oreste non è se che cerca i guai ecco perché il suo metodo per farmi alzare quando vuole entrare in casa farne smiagolare il pippo e allora ha detto vabbè ormai siamo in piedi andiamo a farci un giro con i bastoncini da nordic walking che invece non mi invita per niente non mi invita c'è un cielo antipatico e io sono le missione versata un po di infuso buono guardate è stata una sorpresa ricevere questa bella confezione guardate che è molto bella questa scatola è ruvidina sembra un decoupage al tatto e torton è questo frutto raro e strano in tè verde in tè verde sì e io me lo gusto da questa ciotolina un po alla cinese piccoli sorsi avrei voluto fare il crochet adesso vi dico avrei voluto mettermi a uncinettare la mia formella non mi riesce perché tanto ho sempre dei vari disturbi intorno a me o la menù vuole stare in braccio o c'è il gatto io quando devo fare una cosa che devo seguire nel senso nuova mi rimane più facile che seguire un video notizie su un video quando poi le immagini ci sono e non ci sono peggio no ma non per colpa in generale io preferisco seguire il cartaceo santa polenta che veramente apprezzo il tutorial ci mancherebbe anche perché ci sono dei passaggi a volte che da descrivere sono più complicati che appunto uno lo vede tutto lì allora uno esegue senza troppi timori e titubanze quando si vedono determinati effetti che sembrano così strani e difficili a volte più dirlo che a farlo anzi più leggerlo che a farlo e allora io cosa faccio adesso intanto mi idrato poi faccio la maglia che ho da portare avanti la mia maglietta che mi ho viste di tante carine perché quando ho iniziato a rompere ma non sembrava così di continuo insomma uno mi agoglio ogni 8 minuti io sono messa a seguire un video in francese con un dialetto strano chissà se claudia mai dovesse passare di qua e dirci ma che dialetto è quello lì che si insomma si sente che non è un francese puro come dire c'è la differenza fra il toscano parlato correttamente in Ligure e panente perché poi tra l'altro ad esempio gli spezzini sono convinti di non avere nessuna cadenza di avere un modo di parlare pulito e chiaro si riconoscono lontano un miglio quando si sta fuori casa e quando si conosce insomma la parlata libere qua ci sono un po' di saluti in giro già si chiacchiera le rondine le sentite il cielo verso l'umbria amiche ombre come state è piuttosto cupo lattiginoso verso Viterbo invece è un po' più celeste ma comunque marezzato no non ci vado in giro non mi piace quando è così a volte mi voglia di più il nuvoloso certo quando le nuvole sono grigie così non mi piace è triste non lo so non mi piace allora mi sono preparata anche la colazione stamattina non spignato l'ho spignato mi mangio le albicocche che mi ha regalato ieri sera la Giovanna del suo albero oggi la vado ad aiutare il marito inizia a stare appena un pochino meglio anche se ha bisogno di assistenza e allora le ho detto che vado no ma non mi serve vado all'orda alle 5 alle 5 Giovanna andiamoci alle 6 ma lo deve lavare insomma sistemare non vuole aiuto io glielo lo dico tre volte al giorno vogliamo un po' è timorosa non vuole disturbare la Giovannina ma la Giovannina la donnina esile la metà di me con un marito che è un umone grosso grosso che è ricaduto dalle scale quanto è distratto comunque i sordi sono proprio distratti io vedo che anche Aldo è sempre a farsi male sempre a sbattere la testa tutti i giorni sbattere la testa anche io non scherzo quando dico che deve mettersi il caschetto se è così distratto un giorno arriva con l'occhio nero un giorno arriva col bozzo in testa la Titi è disperata e lui ride come i bambini ride con la foto da furbo che lavoro questi anziani iniziano ad aprirsi i primi fiori di belle di notte sono un po' indietro le mie piante ma le piante in vaso di solito sono sempre un po' più indietro rispetto a quelle in piena terra che bello sono contenta perché ne ho seminate un sacco me ne fosse mai germogliata una di pianta e invece la Titi me le ha sradicate da lungo la strada messe il primo anno a zero il secondo il terzo meglio quest'anno ho il quarto e ho un fiorellino giallo che si è aperto sono contenta a me i fiori fanno contenta ma come se hai bisogno dei fiori perché parti triste e così i fiori no io mi sveglio già bene nonostante lo restano rompi scatole e sapete perché rompe le scatole io non lo so un suo moto d'affetto sarà ma mi dà i morsi ai piedi adesso che li ho nudi nelle ciabattine aperte ho tre paia di ciabattine di tiger che sono carine sono di un comodo perché non sono sì è vero sono basse le chiamano le pianelle no? quelle basse basse però c'è una leggera differenza c'è un acciunno di di come si chiama? di plantarino sono comode poi sono ruvidine è tutto sintetico ma sono comode al passo sono morbide c'è un modello che mi è diventato subito largo ma infatti secondo me un numero in meno sarebbe tanto meglio ma la mia bimba che si è divertita a regalare le ciabattine la sua mamma anziana carina è troppo carina vi devo ancora far vedere i regalini della Camilla ah che mi aveva regalato le ciotoline vedete queste ciotoline qua che io uso anche per verci gli infusi sono proprio piccolina mi l'ha regalata una più grande e io ho trovato ci ho trovato ho questo questo questa cake che è del Tommy che è veramente un filato anche lì il Tommy è proprio da abbigliamento è più che da merletto ma perché perché ha un esterno piuttosto vellutato che è veramente gradevole allora diciamo che tra i cotoni quello che a me ha colpito di più delle Lollo parlo sempre dei filati delle Lollo perché sono quelle che sto maneggiando tanto sono quelli che mi vedete arrivare a casa non sono più andata a Viterbo a scegliermi niente volevamo andare a Viterbo ad acquistare delle matassine di raffia perché ne ha di vintage la signora molto carina con dei bei colori volevo realizzare qualcosa alla mia bimba ma poi non siamo andate e insomma uno dei primi filati che acquistai da Lollo fu il cotton ecco io quando penso ad un filato per bambini si pensa a un certo tipo di morbidezza che è quella alla quale appartiene abbastanza il Tommy quindi questo esterno vellutato ma il Tommy è anche molto composto molto molto regolare non fa vedere la torsione dei fili sottili è gradevole anche quello lo trovo adatto a bambini ma il cotton il cotton è affascinante perché ha questa torsione non tradizionale che appartiene più ai cablet ma non è un cablet serrato allora la torsione cablet che cos'è noi avremmo visto se maneggiamo i filati come vengono ordinate le fibre o i filini che compongono i vari filati quelli che chiamano pli il pli oh mamma adesso mi arriva qualcosa in testa sono proprio delle disoneste steroldini ce l'ho più mi fanno un volo radente sul capo che adesso arriva l'oreste ecco povere loro e quindi vengono si attorcigliano solo loro stessi i filini e compongono un filato che possiamo anche aprirli e andare a contare da quanti fili è composto quando non abbiamo le indicazioni ma proprio per conoscere i filati vanno aperti avete la parte finale di un filo apritelo scomponetelo e guardate come si comporta il cotton è un intreccio non è una torsione su tanti fili che si arrotolano su loro stessi è un intreccio è un intreccio che ricorda a tubolare quindi ricorda quasi un contenitore un po' come gli ingabbiati ma allungato non è serrato ma allungato ricorda già un merletto di per sé è delicato è sottile niente mi sta scappando uno sternuto niente ci impedisce di lavorarlo doppio o triplo alla bisogna per le bambine io l'avevo lavorato a un capo mi ricordo se anche mia madre che c'è tutto un passaggio di cake da una parte all'altra mia madre l'anno scorso aveva voluto un sacco di lino per fare delle cose a mia sorella poi dico ma ti entro erano dei colori così belli anche i primi linezza e no niente me l'ha dovuta mandare ora li rimpiange e si attaccano e gli dico ormai li ho messi sono miei gli ho dato altro adesso partirà le comporrò una scatoletta adesso ha voglia di fare molti color un po' perché sta smaltendo cose di vario peso che le sono rimaste lì quindi sta mescolando lana col cotone sta facendo quelle cose avete visto che faccia la Gabriella e ha voglia di fare color non le va di lavorare capi monocromatici neanche alle bambine quindi o fa delle canotterine o fa o compone formelle multicolor fatto sta che di monocromatico non ce n'ha voglia allora le comporremo con la camilla una scatola una scatoletta ho un sacco di roba è vero che mi dispiace c'è tal via quindi vedo un po' tra le confezioni rimaste un po' più avanti che cosa metto insieme io non le chiamo avanzi quando dico avanzo mi sembra proprio di offendermi ho filato le mie risorse e quindi la nonna si prenderà questa scatola io intanto mi sorseggio il tè perché mi alzo veramente desideratata non si suda a casa la cosa buona è che c'è ancora abbastanza escursione termica questo aiuta anche a di coprire di rugiada la vegetazione quanto la disseta ecco l'escursione termica aiuta aiuta la produzione di umidità notturna sugli oggetti e si possono anche dissetare le piante con metodi strani alternativi che poi ne parleremo stamattina devo lavare la terrazza oh mamma devo pulire intorno alla terrazza togliere urtiche togliere erbacce quelle ce la fanno sempre e poi ho ciuffi ma quelli li lascio stare ho ciuffi di mentuccia di mentuccia romana che mi sbuccano da tutti i pertugi delle tale mattonelle tra l'intonaco crepato intorno alla terrazza ai piedi dei vasi l'urtica comunque ci mette il suo esce proprio è proprio zona da urtiche ho una pianta che mi sta soleticando una guancia Lorenza ma non ti si sente lo so soprattutto se poi avete dei cellulari come il mio che non hanno una grande capacità di volume però non posso urlare a quest'ora siete d'accordo con me quindi non mi offendo se non avete voglia di ascoltare questo brusio io parlo un po' così come se fossi al telefono con una cara amica un caro amico quest'ora si parla solo con le care persone il sole c'è si è alzato da mo ma è velato io intanto mi gusto le rondifiche non mi fanno cadere qualche regalino nella ciotola o sulle mie albicocche è uno dei miei frutti preferiti ma la frutta estiva la amo tanto dalle nespole che ho raccolto le ultime che sono riuscita a recuperare le fronde alte sono quelle che ospitano le nespole più grandi ma nessuno le raccoglie nei giardini non capisco perché poi le albicocche le albicocche hanno proprio il profumo del mare e poi le pesche ma sapete che cosa che consistenze belle gelatinose riusciamo a fare con i semini di chia che ci fanno tanto bene sono adatti un po' a tutti credo i semi di chia non danno fastidio non evitano i diverticoli perché si gonfiano rimangono molto morbidi contengono calcio e regolarizzano le funzioni intestinali quindi il movimento ma che discorsi di cacca Lorenza la mattina si parla anche di queste cose tra persone intime allora anche l'altro giorno avevo queste pesche molto mature con una ho fatto ho riempito una ciotola non ho aggiunto acqua invece avrei dovuto perché mi avrebbe aumentato l'effetto gelatinoso dei semini di chia che hanno messo circa due cucchiaini quindi prendere la frutta preparare già le monoporzioni se avete delle belle ciotoline prendete la frutta schiacciatela in un piatto con i repi di una forchetta le pesche succose quanto sono la frutta matura non amo non compro la frutta quando c'erano e ci rinuncio piuttosto invece ho trovato queste belle pesche di paese mature quindi due me le sono mangiate a morsi succose quando si sporcano la faccia che buona e una me la sono lasciata per la colazione ho messo i semini di chia invece se avessi appunto aggiunto anche l'acqua che buono viene proprio una consistenza budinosa non avete cotto niente avete sporcato quello che serviva e basta e quello che sarebbe poi usato sto aspettando che si schiudano i boccioli della portulaca come sono belle le portulacche quest'anno mi è riuscito ad averne una recente e che ho sparso in giro per il vicinato a rametti ne ho infilato un po' di vasi qua e là fate fate con la Lorenzo no che bello e mi piace dal mio vasetto mi manca il bianco e dovevo fregare la Titti e a lei le ho regalato dei rametti colorati che aveva solo bianca vado a prendere il bianco e le infilo nello stesso vaso e poi le infilo nei vasetti qua e là sto disettando come se non ci fosse un domani la mia pianta di garofano ricadente fitto fitto ma ho bisogno di interrarlo perché si è disidratata troppo quella terra si secca ma non lo voglio mettere all'ombra perché mi piace quel ciuffetto tutto sbaruffino e poi voglio parlare di questo tè che mi ha regalato un'amica allieva è sfuso dentro c'è una confezione di ora ve la faccio vedere di latta ha un profumo io non amo di solito sorseggiare bevande troppo profumate appena sveglia ma lui ogni tanto me lo concedo poi sapete di cosa vi volevo parlare ieri che sono mi è riuscito finalmente di rinnovare la carta di identità Santa Polenta che avventura ho trascorso la mattinata a chiamare il comune di Viterbo avessero mai risposto al centralino stavo per chiamare i carabinieri ieri pomeriggio se non mi rispondono guai perché per rinnovare a parte che non rinnovano i siti fanno finta di rinnovare le notizie che riguardano le circoscrizioni sono sempre vecchie non sono mai affidabili infatti c'era un elenco di orari di giorni di apertura della nostra circoscrizione che non corrisponde avessero solo il pomeriggio il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17.30 l'orario peggiore che c'è un caldo ma terribile camminare sull'asfalto a quell'ora ieri mi hanno dato un passaggio la signora del bazzaretto mi ha beccato per stata vieni che ti accompagno e poi mi sono entrata non dal bar anzi appena uscita da tre quarti d'ora di attesa un'unica persona maleducata ad accogliere ma ne parleremo di questi non servizi al pubblico uscita da là pochi passi sono entrata a visitare l'enoteca un coraggioso aveva appena aperto questo signore quando c'è stato il blocco di tutto quindi io mi sono messa nei panni di queste persone delle persone che avevano ordinato le collezioni primaverili per i propri negozi scarpe vabbè scarpe abbigliamento voi sapete che diventa vecchio tempo niente ormai e quindi quante cose le persone sono dovute pagare e non aver potuto vendere questo fatto che potevi comprarti determinate cose ed altre no ma c'è ragionate che non ha proprio senso questa cosa com'è andata e quindi mi sono introdotta nell'enoteca e ho fatto una chiacchierata col proprietario ho un profumo entrando un profumo divino divino proprio a me piace il profumo del vino ed è un luogo meraviglioso un po' un po' caotico nel senso che c'erano molte cose prese sembra il mio studio oddio non proprio come il mio studio ma tanta roba ancora un po' da sistemare un tavolo centrale rotondo una tavola ronde e dei silus in acciaio per la mescita del vino suso anche quello lo vogliamo provare e poi hanno lo champagne perché no le bollicine mi piacciono ma hanno tanti vini hanno delle esclusive delle produzioni esclusive delle produzioni locali e poi quello che mi è piaciuto cioccolato fondente che assaggerò che acquisterò per fare questo dolce solo cioccolato e uova che è molto buono e ottimo anche d'estate soprattutto se lo accompagniamo a frutta di stagione quindi le peschine a spicchietti le albicocche finché le avremo le ciliegie finché restano poi arriveranno le pere ma che buone le pesche e il melone il melone lo mangio di rado perché poi non lo vrei mi pizzica il naso ho messo un centrino qua a rovescio uno dei miei preferiti fatto lo vedete è bello fitto che sono dei moduli che creano questa grande girandola quanto mi piace è un cotone meraviglioso tortissimo tortissimo proprio da merletto di quelli che usavo una volta quando ero giovane il tè verde è buonissimo ho bevuto tiepido anche perché poi l'infusione di questo è al massimo 70 gradi anche un po' meno e allora ho fatto questa bella chiacchiera con questo signore che mi ha spiegato come è nato il suo spazio che cosa ama proporre infatti avevo visto dei pacchi di farina ho visto dei biscottini ma non delle confezioni così c'erano dei test sembravano mi ha spiegato che organizzano degustazioni anche private perché sommeglie epili pipere insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata se stava bene c'era un fresco giusto e allora mi sono regalata questo che è un barattolo di miele antica sosta è un'azienda agricola di Viterbo a me piacciono tutti i mieli proprio indistintamente tutti 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 quelli che ho assaggiato finora mi sono piaciuti non vado ad acquistare i mieli scrausi anche no i mescolamenti di mieli strani e poi mi ha chiacchierato un po' di collaborazioni mi ha nominato realtà agricole che io non conoscevo in zona e mi passa una persona è una persona adulta grande più giovane però già bella maturetta e allora mi ha parlato ad esempio del Casone che è un'azienda agricola qua del posto che io non conoscevo nessuno me ne ha parlato dove si può andare ad acquistare prodotti locali prodotti da loro e chiamerò questa Claudia andrò a fare una visita è carino e producono anche zafferano guardate com'è carino questo biglietto da visita io ho da rifare i miei che vorrei un attimo capire bello cartonato mi piace il colore mi piace questo questo stacco di questo strano grigio caldo che tra l'altro ho riscontrato in alcune nuove facciate qua in paese è proprio carino mi ha parlato poi di questi produttori di miele mi ha parlato di questo caseificio e potremmo andare ad acquistare prodotti anche formaggi di capra che sono tra i miei preferiti ecco qua caseificio aziendale agricola di trocia alessandra ok non ci vedo è scritto piccolissimo mannaggia questo dietro è bianco poi mi è stata regalata la piantina oh mamma mi è caduto il freddo ecco qua la cantina dei ah troveriamo anche l'olio e la piantina che poi non è tenuta a casciani allora non mi parla o si non lo so ora lo cerco non me lo corrisco allora la piantina vedete qua è carina di Sant'Angelo Sant'Angelo è questo è una frazione di Roccalvecce dalla quale si può beatamente gustare un tramonto e la silhouette del borgo di Roccalvecce con il suo bellissimo castello e a pochi chilometri da qua di solito d'estate mi vado a fare il cappuccino a Sant'Angelo partendo presto un pochino prima delle 6 da casa i miei bastoncini da Nordic Walking e quanti chilometri sono Lorenza mi sa quasi 4 eh sì scusa quasi 8 8 chilometri circa e poi me ne torno a casa dice che bello va in salita poi è discesa no questo è tutto un saliscendi e questa è la questione che uno dice vabbè parto e faccio la salita poi c'ho solo discese a parte che le discese spacca nei piedi ma invece no abbiamo delle salite irte delle discese irte oh mamma ripide è una fatica proprio faticoso però è bello oh mamma scusatemi non c'è mai verso di tenerlo fermo e ci sono anche delle piccole attività c'è il prestine come dicevano al minaccio al fornaio c'è un piccolo circolo che pensavano anche di trasformare in pizzeria nella terrazza dove di solito mi fermavo a bere il cappuccino e poi Sant'Angelo è conosciuto ormai perché è un paesino che non ha delle attrattive particolari secondo molti secondo me ha tutte quelle che servono e quali sono i differenti paesaggi i giardinetti i mini giardinetti attaccati alle case alle case proprio nel centro del paese un'architettura interessante è anche degli obbrobi di rifacimenti delle terrazzette dei balconcini delle case vecchie antiche ma ecco non pensate a un borgo ristrutturato ordinato un po' come siamo abituati a vedere certe meraviglie umbre toscane no è ancora un po' così ma quello che sono riusciti a fare per intrattenere le persone nel paesino e ha dato modo questo all'apertura di attività commerciali e diciamo che a Sant'Angelo già si trovava un negozio di alimentari e questo circolo questo bar circolo mentre la Calvecce ha un piccolo circolo privato e basta al momento ecco diciamo che due comodità di questo genere mi manca non so cosa vi può mancare il latte io non lo bevo il caffè la bustina del tè il pane se acquistate il pane giornalmente insomma Sant'Angelo aveva già aveva anche un'azienda agricola che distribuisce e vende i propri prodotti in paese un piccolo museo contadino delizioso e quello mi invitava a intrattenersi adesso va un secondo bar e punto ristoro il negozio di alimentari si è organizzato anche per del cibo da strada quindi panini farciti vari c'è una specie di il panificio che fa anche da pizzeria è carino c'è una signora coraggiosa che ha aperto un locale dove vende gadget e poi l'attrattiva delle attrattive a parte il meraviglioso paesaggio che si trova intorno a questo borgo che scende lungo una ruga queste colline sono delle rughe del terreno i grandi murales murales che coprono intere facciate dove il murale si integra con quanto è già presente nella facciata e quindi la grondaia diventa la lancia di Don Quixote che è uno dei primi personaggi che incontriamo ma sono di un bello e ci sono per fortuna vanno le persone vanno e poi sono iniziati i primi B&B il primo in assoluto è stato quello che ha ospitato il primo murales è stato dedicato ad Alice nel paese delle meraviglie infatti si chiama B&B da Alice o una cosa così e mi fa contenta insomma questi posti così che sembrano abbandonati a loro stessi dove un certo piglio di rivalsa invece ecco che porta nuova vita e vediamo che vi è l'infa vitale in questi luoghi prima o poi si sveglierà anche Grotta e Santo Stefano non servono le persone giuste insomma e allora ho ricevuto questi biglietti della visita tutte queste notizie buongiorno e la piantina eccola qua ora vi faccio vedere qualcosa se il mio telefono rimane fermo guardate che bella chiacchiera di prima mattina avete da stirare a quest'ora verso le 7 7 è un po' quando l'avrò caricato non lo so e quindi abbiamo notizie che riguardano le attività agricole e non solo quindi poleifici oh qua abbiamo siamo arrivati a 51 murales allora il primo murales è stato inaugurato con una un'uscita di trekking e abbiamo fatto sosta davanti al murales era la terminale ed è stato proprio carino era stata una cosa carina Tuscia Trekking ecco qua è una di queste di queste società sportive del paese ecco quello che abbiamo in paese sono un po' di gruppi di trekking e cosa si fa in questi posti abbiamo molto da camminare abbiamo un sacco di percorsi proprio belli abbiamo delle bellezze nascoste e abbiamo per fortuna ragazzi maturi ragazzotti amanti di questi luoghi ed è bello andare in giro con chi conosce con chi porta la luce vecchi sentieri è faticosissimo quello che fanno e ho fatto un po' di uscita ho partecipato insomma allora Roccalvecce che si distribuisce in Codesto ma scusatemi Sant'Angelo ma vi metterò un link se trovo dei video sotto ve li metto io ve lo dico ma mi scordo e l'ognomo goloso ma si hanno aperto poi dei locali nuovi che non abbiamo fatto in tempo a vedere perché è successo tutto quello che è successo insomma abbiamo questi grandi murales bello che c'è anche la mappa ve ne dico alcuni ecco i titoli vabbè Pinocchio e il volo di Cività è bellissimo il murale dedicato a Pinocchio che porta poi si vede Cività di Bagno Reggio appunto che si eleva poi c'è Pinocchio Riverente abbiamo il soldatino di Stagno il giro del mondo in 80 giorni il gatto con gli stivali Don Quixote è proprio affascinante i musicanti di Brema Magnolina Don Quixote va bene l'alba del nuovo giorno Cenerentola il piccolo principe la carica di 101 Pocahontas non ce la potevamo mancare il libro della giungla le fatte di Avalon e poi vabbè Biancaneve vediamo un po' la fabbrica di cioccolato cappuccetto rosso è bello è bello andare con i bambini ma è bello andare è bello camminare in un paese che è un paese anche quando io notte qua oh ieri non c'è stata persona che questo ho perso questa signora qua ma lei cosa c'è venuto a fare quando ho finito quando ho concluso tutte le pratiche sapete che vi prendono le impronte digitali quando andate a rinnovare la carta di identità a me mi è passata io non l'ho sentito mi ha traumatizzata questa cosa che mi hanno preso le impronte digitali degli indici una cosa orrenda ma stiamo in Cina ormai qua orrenda proprio orrenda questa cosa e io non mi farò inserire proprio niente nel mio corpo mi possono anche arrestare se portano avanti la balzana idea di inserire chip col cavolo insomma questi luoghi per chi può lavorare da casa per chi non ha difficoltà a raggiungere Roma Nord per chi lavora a Roma Nord ad esempio un'ora e venti litri inizio Mazzalo guardate che spostarsi a Roma a volte chiede ancora più tempo ma belle ore per attraversare la città per arrivare in certi posti dove bisogna fare delle staffette di mezzi pubblici tra i mezzi pubblici e quindi per chi lavora che ne so a Saxarubra o dintorni abitare a Grotte mica fa orrore abbiamo delle corse dirette all'andata e al ritorno me lo sponsorizzo anche perché si riescono a trovare case con affitti veramente contenuti e anche acquistarle per chi volesse ci sono veramente delle belle casette da sistemarsi un po' ma veramente a dei prezzi dove nella mia città uno ci compra un garage e quindi ieri mi sono regalata il miele farò una chiacchiera con la persona che ha la responsabilità dell'ecomuseo perché è uno spazio che andrebbe vissuto di più un paese perché è anche spazio lettura è una piccola biblioteca ben assortita e che ha sede nella stessa palazzina dove dove abbiamo l'ufficio della circoscrizione ah vi puro il naso bene adesso che vi ho intrattenuto vi lascio allora sotto mi devo ricordare vi lascio il link del canale francese che ho seguito questa mattina dove c'è stata una carrellata di top e magliette veramente carine semplici ma carine delle buone idee insomma alla portata di molti con tutti i link per raggiungere i rubberli di questi capi dei design che li hanno prodotti non so se sono a pagamento o sono gratuiti o sono misti o solo ecco non lo so però è una bella carrellata insomma nell'info box trovate tutti i link la signora li presenta una ragazza diciamo una ragazza li presenta e ogni tanto fa vedere delle immagini cioè presenta capo per capo e racconta in questo strano francese e quindi vi voglio mettere il link per raggiungere questo canale vi metto il link per andarvi a visitare Sant'Angelo e Roccalvecce che sono le mie mete preferite dei miei dei miei trecchi dei miei nordic della mia camminata nordica mattutina estiva e faccio anche l'inverno anzi e poi che cosa vi metto vabbè intanto vi prendete questo se trovo i link per qualche azienda agricola locale tipo vediamo un po' ce l'hanno i social ah Instagram ok vado poi a devo controllare ieri Camina mi ha pubblicato qualcosa io non ho aperto Instagram e va bene vediamo cosa vi recupero venire a Grotte allora Grotte Santo Stefano non ha delle bellezze architettoniche di solito la gente si muove per quello ma stiamo in beata pace abbiamo tre semafori se volete sentirvi cittadini tre semafori li abbiamo eh abbiamo delle opportunità ricettive sì non è che garantisco tanto perché c'è chi si trova bene c'è chi si trova male non so ma per chi ama camminare ci sono un sacco di belle passeggiate in campagna belle proprio belle si vedono i cimini da qua si vede l'Umbria spero che abbiano riaperto il parco dove dove c'è la chiesina del Santissimo Salvatore ed è un sito anche arqueologico si possono raggiungere a piedi se amate camminare e non vi spaventate insomma potete raggiungere un sacco di posti carini potete soggiornare in luoghi ecco diciamo dove non c'è traffico e poi raggiungere o potete raggiungere un sacco di posti da qua a parte tutto quello che circonda Viterbo è veramente molto bello Viterbo è una bella cittadina che può deludere perché è un po' sonnacchiosa diciamocelo via speriamo tutto può migliorare abbiamo ancora l'ultimo sindaco sedato vediamo un po' non è stato sedato sedato proprio ha rinunciato all'incarico e ora vediamo vediamo cosa potrà cambiare in positivo lo spero sempre nei cambiamenti positivi voi no buona giornata a più tardi a più tardi buona giornata buono stiro buon tutto è rovescio uno dei miei centrini preferiti e questo è un vassoio vi devo ancora far vedere i regalini della Camilla questa è la ciotolina alla quale lei una gemella la ciotola grande alle quali dedicherò le nuove formelle che mi piacciono tanto ciao a più tardi